Sì, da un po', sono male condizioni, stare bene oppure no, no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già con me vedi, io sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai, dove siamo state, cosa siamo poi, domina l'esco, è solo quello che non è usato.